Un caro saluto al mio pubblico, questo breve messaggio per farvi riflettere. Avete mai vissuto in una discarica a cielo aperto? Immaginate dei bambini con i loro genitori, se li hanno, vivere tra liquami, senza istruzione, senza aiuto. Questa è la realtà dell'Islam. Sono a Nairobi, in Kenya. Africa Sì, associazione Onlus, guidata da una serie di ragazzi fantastici che ho avuto la fortuna di conoscere, in particolare dalla loro referente Alessandra Tiengo, si è presentata nella passata stagione e ci ha illuminato. Hanno un'azione verso questa gente, un'azione sociale incredibile. Ho deciso, insieme al mio teatro e a tutto il gruppo di lavoro, di sostenerli e abbracciare la loro casa. Il Teatro Brancaccio, insieme alla Salomberto, vi invitano a conoscere la loro realtà, a partecipare e a sostenerli. Grazie. A Nairobi si contano più di 220 baraccopoli, dove vivono oltre 2 milioni 800 mila persone, più del 70% della popolazione locale. Da 15 anni, Africa Sì sostiene il progetto di Psi Educational Project, con programmi di assistenza sanitaria di base, alfabetizzazione e formazione. Per la stagione teatrale 2014-2015, i teatri Salomberto e Brancaccio hanno deciso di sostenere il progetto Sostegno Alimentare. I bambini coinvolti nel progetto sono 450 e vanno dai 3 ai 13 anni. Il costo per il pasto di un bambino è di soli 16 centesimi al giorno. Un pasto è l'affermazione del diritto universale alla vita. Contribuisci ora con un euro alla formazione e allo sviluppo di 6 bambini nati nelle baraccopoli. Perché un pasto è anche il tuo futuro. Noi ci siamo! E tu?